Tra tutte le classiche storie Disney, tra le avventure fantastiche, tra i racconti pieni di magia, non avete mai visto nulla che somigli a come d'incanto. Perché nessun'altra storia ci ha mai portati in un mondo strano e terrificante come il nostro. Oh mamma, mi chiedevo se uno di voi potesse indicarmi la via per il castello! Ehi, guarda dove vai! Brontalo! Nessuno è stato molto cortese con me. Strano, beh. Benvenuta a New York. Ti ringrazio. Giselle, io ti salverò! E ormai... E chi salverà me? Cerco una bellissima ragazza. Quando la trovi lei chiedi se ha una sorella. Il loro mondo e il nostro mondo... Credo che possa essere una principessa vera. ...stanno per scontrarsi. Coraggio ragazzi, mettiamo un po' d'ordine. Oh mio Dio. E niente sarà mai più come prima. Il prossimo Natale... E lì sarò... Non cantare, va tutto bene. Facciamo due passi. Un uomo qualunque dovrà riportarli a casa prima che sia troppo tardi. specchio delle mie brame, ti prego. Dimmi dove trovarla. In diretta tra la centosedicesima e Broadway. Centosedicesima e Broadway! Grazie, mio specchio. Walt Disney Pictures presenta... L'evento cinematografico delle feste. Ti sconfiggerò, l'urida bestia rombante! Ma sei matto? Non puoi infilzare il mio autobus. Torna subito qui, manieco in calzamaglia! Come d'incanto. Giselle! E l'evento! No! Ai!